Ero facciata e stavo guardando il cielo, era pomeriggio e ho visto una cosa che a me sembrava gli aerei quelli che passano via ma io ho detto ma l'aereo non scende verso il basso ma dritto e poi io l'indomani sono voluta scendere e io ho detto perché io mi sembrava la meteorita e già lo sapevo perché era rossa e sono scesa, siamo arrivati nel campo, prima loro sono passati e non ci sono preso caso poi io l'ho vista, facevo impressione e quindi l'hanno presa loro perché io mi sono impressionata l'abbiamo salita e l'abbiamo portata in un pezzo di giornale e ha preso fuoco il giornale ma però la pietra era fredda e la carta era calda ho visto una cosa e poi non si è vista più perché c'erano... e poi il domani sono scesa e era giù ho visto la scia cadere verso giù e l'indomani sono stata curiosa e sono scesa, sono entrata e ho visto questa cosa e l'ho salita erano tre bambini? si tra io, lei e mia cugina si spaventava perché ha preso fuoco, strana si sono saliti i bambini con questa cosa e l'abbiamo messo sopra la tavola e mia madre aveva paura quindi poi l'abbiamo preso un pezzo di carta, l'abbiamo avvolto e abbiamo visto che questa carta prendeva fuoco e mia madre ha telefonato alla polizia e non sono venuti, poi abbiamo ritelefonato perché ho visto che questa cosa prendeva fuoco, era calda ci siamo messi di più paura, sono venuti e se l'hanno portato in prima anche loro avevano un poco di... però poi se l'hanno portato anzi io ho detto prima di portarselo, io ho detto scusi ai polizi, ti lo posso guardare per l'ultima volta? ti sliceci? ispuntata la? ispuntata la? ispuntata la? Qua, qua dove c'è? Qua Si vede? Si vede? Qua 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 a posto a Allora, scendiamo l'aria! abita a Ficarazzi come on come on go